Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, celebriamo oggi la festa di Santi Reneo Martire, padre della Chiesa, grande teologo dell'antichità, il primo che elabora una dottrina sistematica in base alla rivelazione. È un grande padre, un insignia teologo, siamo al secondo secolo, un grande martire, ma soprattutto è un operatore di pace per il prestigio che egli godeva in Oriente e in Occidente. Il suo nome Reneo significa pace, il suo pacificatore nel nome e nei fatti. Questa mattina vogliamo chiedere al Signore la pace, ma la pace biblica, la pace evangelica, non è la pace degli uomini. ci sono tante forme di pace. La pace è un dono di Dio. Il termine Shalom ebraico non può essere tradotto in nessuna lingua, tanto è la pienezza del senso e il benessere, la prosperità e il culmine di tutti i beni materiali e spirituali. Questo è Shalom. E così anche il termine greco Irena e il termine latino Pax, pace, sono termini che non rendono appienamente il senso originale, però si avvicina nel senso originale ed è quel benessere interiore ed esteriore nella buona relazione con Dio, con se stesso e con gli altri. Noi chiediamo questa mattina al Signore il dono della pace, la pace che è turbata unicamente dal peccato. Il grande nemico della pace è il peccato. Dove c'è peccato, e vi non c'è più pace, perché il peccato rompe le relazioni con Dio, con se stesso e con gli altri. Ecco perché va eliminato il peccato se si vuole la pace. Inutilmente si opererà per la pace quando c'è di mezzo il peccato. Quando c'è l'ingiustizia, quando c'è la menzogna, lì non ci può essere pace. Il senso di pace non è opposto alla guerra, cioè noi non diciamo o guerra o pace, no. C'è un bellissimo testo della scrittura quando Davide chiama Uria e domanda come va la guerra, le sorti della guerra. La domanda è questa, come va la pace della guerra? Come va la pace della guerra? Cioè si fa guerra per avere la pace. Come va la pace della guerra? Dunque c'è una pace della guerra. La pace è frutto di una lotta. per questo dicevano i latini se vuoi la pace, prepara la guerra. che non è intimidazione ma è togliere quello che può turbare la pace, può togliere la pace ed è il peccato. In qualunque forma esso si manifesta il grande nemico della pace e il peccato. non è la guerra. Anzi bisogna lottare per la pace togliendo il peccato in mezzo a noi. Ed è il Messia che ci porta la pace. Il re della pace. Anzi egli stesso si identifica per pace. E lui sarà la pace. Egli che fa pace tra i vicini e i lontani. Che fa pace tra cielo e terra. E lui che è al centro della pace. Accettare Gesù in tutte le sue dimensioni questo è fare la pace. Rifiutare Gesù e rifiutare la pace. Ecco perché il mondo oggi anche sotto il velo del benessere sotto il velo così della solidarietà non ha la pace. Perché non ha Cristo che è la pace. Perché non ci può essere pace con il peccato. Adesso chiediamo al Signore la eliminazione del peccato per disporci alla pace. La eliminazione del peccato contro la verità contro la giustizia. L'eliminazione del peccato contro l'amore contro la carità contro l'impietà. tutte le forme di peccato scuotono la pace. E allora chiediamo al Signore la pace per noi. La purificazione del peccato individuale del peccato familiare del peccato sociale perché tutti siamo correi di peccato o del peccato personale o del peccato familiare o del peccato sociale a tutti i livelli. Chiediamo al Re della pace di entrare in mezzo a noi di debellare il peccato ed entrerà la pace tridimensionale dentro i nostri cuori nelle nostre famiglie nei nostri gruppi pace con Dio pace tra di noi pace dentro di noi. Sì oh Padre del cielo ti chiediamo la pace tu ci dai il dono della pace ma il dono della pace tu lo dai quando viene tolto il peccato toglieci il peccato Padre del cielo invochiamo per questo il tuo santo spirito perché ci purifichi dai ogni peccato e ci risponga alla pace che scende da te. Spirito Spirito del Dio vivente accresci in noi amore pace gioia forza nella tua luce presenza Spirito del Dio vivente accresci in noi amore pace gioia forza nella tua dulce presenza di sottotterà e per la sottotterà la viva che arriva la tua chiama Donde la tua vita purifica i voli sole della vita che arriva la tua chiama verserò sui voi dell'acqua pura e sarete purificati, popolo mio per divenire pasta del Signore purifica il mio cuore purifica la mia mente, oh Signore purifica il mio cuore purifica la mia mente, oh Signore Gesù, Gesù, Gesù Parvami Gesù, Gesù, Gesù Parvami Gesù, Gesù, Gesù Parvami Gesù, Gesù, Gesù purifica le mie mani purifica il mio corpo purifica la mia vita purifica con il tuo amore purifica le mie mani purifica il mio cuore purifica la mia vita con il tuo amore purifica la mia vita con il tuo amore Gesù, Gesù, Gesù Parvami Gesù, Gesù, Gesù Parvami Ponte a mia, Gesù Gesù, Gesù Salva mi Gesù, Gesù Gesù Grazie a tutti. 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 Un servo del Signore non deve essere litigioso, parola di Dio. Grazie a tutti. 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 Alleluia. Grazie a tutti. 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 Il loro parola del Signore, gloria per il Cristo. Alleluia, 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 Alleluia. Sant'Ireneo, Vescovo di Lione, Francia, ma ha vissuto in Oriente e un orientale. E' il Vangelo che abbiamo proclamato nel canto, che è il Vangelo dell'unità. Il Papa riflette bene l'opera indefessa che perseguì per tutta la sua vita Ireneo, conciliando Oriente ed Occidente. E nei momenti più cruciali, in cui il Papa aveva una questione grave, la questione pasquale con l'Oriente, in questo frangente Lione, con la sua autorità, si interpose e procurò la pace tra Oriente e Occidente, che minacciava di rompersi. Percorse l'Oriente e l'Occidente, pacificando, operatori di pace, ma grande teologo della Trinità, il grande teologo dell'Eucaristia, perché quello che egli ci dice riflette il rite eucaristico tutt'ora vigente. Un grande padre, un grande padre a cui attincero tutti i padri della Chiesa che avvennero dopo. Campione della fede, muore martire, testimonia con il martirio la sua fede in Dio, il suo amore alla Chiesa, la sua lotta per l'unità della Chiesa e per la pace. Le letture di oggi riflettono sempre il desiderio della pace, perché la pace è un dono di Dio, è un dono che Cristo è venuto a portare sulla terra, Cristo il Messia, che viene detto, principe della pace. Quando Gesù nasce, sulla grotta di Betlem, gli angeli cantano Gloria a Dio, pace agli uomini, la pace è venuta. Il profeta Isaia aveva chiamato il Messia la pace. Il nome del Messia è pace. E quando Gesù risorge, il primo saluto che dà è questo, la pace sia con voi. E ripeti il saluto, la pace sia con voi. E soffia lo Spirito Santo, lo Spirito di unione. E comanda che il saluto che deve dare i suoi discepoli quando vanno in missione, la pace sia a questa casa. Però non si impone alla pace. La pace va ricevuto come un dono. Da cuori ben disposti. Non c'è la pace ad ogni costo. La pace non subisce compromesse. La pace scende dove c'è la giustizia, la verità, la disposizione a ricevere Dio. Dove non c'è questa disposizione, la pace non può scendere e non va sciupata. Perché è un dono di Dio. Quando è entrata in una casa, se i vi si trovano uomini di pace, data la pace. Ma se non si trovano uomini di pace, non lasciate così la pace ad ogni costo. La pace ritorni a voi perché è un dono mio. Non deve essere sciupata la pace. La pace è un dono di Dio che non va andato a chi non vuole ricevere la pace. Perché è frutto di giustizia la pace. Come detto nelle scritture, è frutto di giustizia la pace. Dove c'è il peccato, dove c'è ingiustizia, i vi non può esserci la pace. Perché la pace posa sulla verità. Dove non c'è verità, non ci può essere pace. Non possiamo costruire sulla sabbia, sulla sabbia mobile. La pace si sgretolerà anche quando noi ci affanniamo a costruirla perché manca la giustizia di sotto, che è il solido fondamento, perché manca la verità che è Dio. La pace si fabbrica su Dio. E siccome Dio è verità ed è giustizia, ogni pace è fabbricata sulla non verità, sulla non giustizia, è destinata a crollare. Sarà un compromesso, sarà un modo di vivere, sarà un modo di stare insieme, sarà un modo di evitare per qualche tempo delle contese, ma non sarà la pace. La pace viene quando noi riconosciamo il nostro peccato. Perché se non riconosciamo il nostro peccato e tutti siamo peccatori, non avremo pace. Ci possiamo illudere di avere la pace, ma non l'avremo. ci crediamo di essere vicini a Dio, ma non siamo vicini a Dio. Crediamo che i nostri progetti, i nostri pensieri siano vicini a quelli di Dio, ma sono dietro a me, opposti, lontani. in una riunione recente il Signore ci diceva quanto diste il cielo dalla terra, così distano i miei pensieri dei vostri pensieri, quanto diste l'Oriente dall'Occidente, voi che mi ascoltate, così distano i miei progetti, dei vostri progetti, ed io so quali sono i vostri pensieri, sono iniqui, io so quali sono i vostri progetti, sono cattivi. Queste cose diceva il Signore alludendo a noi, io so quali sono i vostri pensieri, sono iniqui, so quali sono i vostri progetti che tramate, sono cattivi. le mie vie sono diverse dalle vostre vie, i miei progetti sono completamente diversi dalle vostre, voi siete lontani da me, non mi capite, abbandonate i vostri pensieri, i vostri sentimenti, i vostri progetti, le vostre vie, perché siete fuori strada e ritornate a me debellando il peccato che è in mezzo a voi, perché sul peccato non può essere fabbricata la pace, sul peccato non può essere fabbricata la giustizia ed io voglio la giustizia, non può essere fabbricata la verità ed io voglio la verità, non può essere fabbricata l'amore ed io voglio l'amore. Convertitevi e dovete essere convinti che siete peccatori, che siete lontani da me, nessuno di voi dica io sono giusto, gli altri sono cattivi, ma tutti, tutti indistintamente dovete convertirvi perché siete lontani da me, i vostri pensieri sono cattivi, le vostre intenzioni sono cattive, io scruto la mente e i cuori e so quelle che dico, queste cose diceva il Signore e diceva la verità. Fratelli e sorelle, non possiamo scherzare con Dio, il rinnovamento non può scherzare con Dio, perché se si scherza con Dio si va col diavolo, nemico di Dio, si cade nell'accio di Satana, come dice la scrittura di oggi. Cosa dice Paolo a Timotio? Cerca la giustizia, la fede, la carità e la pace va cercata con quelli che hanno il cuore puro, con quelli che hanno il cuore mondo dal peccato, dove c'è il peccato, dove c'è la menzogna, dove c'è la vendetta, dove c'è l'astia, dove c'è il grande peccato dell'invidia che è il peccato diabolico, Ivi non ci può essere né verità, né fede, né carità, né giustizia, né pace. Evita le discussioni sciocche che generano sempre contese perché non ci cerca la gloria di Dio, ma si cerca il proprio posto, si cerca cioè di dare un posto al nostro pensiero, alle nostre intenzioni, al nostro affare e al nostro agire. Due sono i grandi nemici interiori della pace perché due facce soprattutto al peccato. La superbia dove c'è superbia non ci può essere pace perché nella superbia c'è l'egoismo nella superbia c'è il cercare se stesso il mettere se stesso al centro al posto di Dio al posto degli altri che il primo tra di voi sia l'ultimo ma effettivamente voi siete servi ma anche lo spirito del servizio che è diventato esercizio di autorità in mezzo a noi questo è il grande peccato delle nostre comunità c'è inquinamento diabolico in mezzo a noi che va distrutto ad ogni costo spirito di servizio non spirito di autorità non esiste l'autorità l'autorità è Dio esiste il servizio che dobbiamo rendere è un servizio salato perché c'è il servizio non salato il nostro servizio per avere il salario deve essere il servizio di Cristo abbiate sale dentro di voi e siate in pace gli uni con gli altri avrete la pace quando voi avete il servizio salato il sale non si vede si riquefa laddove esercita quando voi mettete il sale nella pasta nelle pietanze non troverete più il sale ma troverete condita la pasta ma il sale non esiste se tu vedi il sale vuol dire che quel sale è fuori posto ossia non si è riquefatto non ha assolto il suo compito il sale deve assolvere il suo compito quando si riquefa quando scompare quando ancora compare è segno che quel sale non ha compiuto il suo dovere non ha fatto quello che doveva fare chi è in servizio deve scomparire deve scomparire non esistere più allora il servizio è un salario il salario del Signore allora è salario il servizio è buono altrimenti è diabolico perché è l'affermazione del proprio io della propria autorità e questo non deve esistere l'altro grande peccato l'altra faccia del peccato è l'invidia l'invidia è diabolica il diavolo e l'invidia di Dio perché lui là sopra e io qua sotto di lui voglio essere come lui a scendere sul trono dell'altissimo l'invidia della gloria di Dio perché deve essere lui a stabilire il bene e il male voglio essere io l'invidia di Dio e questa invidia che abava il serpente l'enocolò in Eva e l'adamo direte invidiosi di Dio perché deve essere Dio soltanto ad essere alberto del bene e del male siate come lui ecco il grande peccato quando il morso del serpente tocca qualcuno e la sua bava che viene inoculata come veleno mortifero e nell'invidia si commette tutte le iniquità si rovina la relazione tra uomo e uomo tra uomo e donna nelle famiglie nella società nei gruppi nella chiesa l'invidia è la grande bava del diavolo guai quando l'invidia entra in mezzo a noi può fare di tutto perché è veleno e l'invidia del diavolo dice la scrittura il peccato è entrato in questo mondo e quando noi diamo luogo all'invidia e la diamo il peccato entra in mezzo a noi e il diavolo che balla siamo entrati nel laccio di satana come dice qui la scrittura e allora il signore voglia concedere la conversione perché riconosciamo la verità e ritorniamo a lui sfuggendo al laccio di satana che li ha presi nella rete perché facessero la sua volontà nell'invidia facciamo la volontà del diavolo siamo figli del diavolo e figli del diavolo e ce ne sono tanti che coabitano con i figli di Dio e bisogna curare perché altrimenti non avremo la pace la pace sia soltanto quegli uomini che riconoscono Dio che amano la verità amano la carità amano Dio amano gli uomini fratelli e sorelle la pace è frutto di una lotta bisogna lottare contro di noi contro l'egoismo bisogna lottare contro l'invidia bisogna lottare contro la menzogna per avere la pace chi non è disposto a lottare contro l'egoismo chi non è disposto a lottare contro l'invidia chi non è disposto a lottare contro la menzogna costrui non può avere la pace non è operatore di pace e non può stare nel regno di Dio eliminiamo ciò che i malvagi mesi a noi gli avremo la pace frutto della giustizia e la pace la pace e la giustizia ci sono ambaciate e la giustizia è in questo che Dio deve essere al centro noi tutti i seppieri la giustizia è questa che tutti siamo fratelli e nessuno è superiore all'altro la giustizia è questa che tutti ci mettiamo in ginocchio ci riconosciamo i figli di Dio ci amiamo gli uni gli altri la giustizia è questa che nessuno cerchi se stesso ma il bene dell'altro perché questo è l'amore la giustizia è che riconosciamo Dio in mezzo a noi Alleluia e adesso preghiamo con Gesù nel Vangelo o Signore Gesù noi abbiamo letto la preghiera sacerdotale la preghiera universale la preghiera accorata che dove c'è stia il Padre per l'unità tu hai pregato il Padre Padre fa che quelli che credono in te siano una cosa sola per questo io li ho separati dal mondo purtroppo sono nel mondo ma non debbono essere nel mondo perché il mondo è dominato dal maligno e tutto ciò che è nel mondo è concupiscenza degli occhi concupiscenza della carne superbiere dalla vita essi sono nel mondo ma non sono del mondo Padre conserverle nella verità per questo io mi offro a te perché siano conservati nella verità e rendere stretti gli uni agli altri una cosa sola come tu con me sei una cosa sola così anche essi con noi e tra di loro siano una cosa sola Signore Gesù questa tua preghiera si adempierà alla fine dei tempi ma vuoi tu che noi siamo in tensione continua verso l'unità concedici oh Signore Gesù di accettare te che sei verità e amore che sei pace e mezza a noi concedi a noi di lottare insieme per camminare verso l'unità che avremo soltanto in cielo ma che noi possiamo in certa maniera raggiungere attraverso il tuo corpo e il tuo sangue mangiando all'unico pane bevendo all'unico calice noi possiamo entrare nel vortice dell'unità oh Signore Gesù che sei uno in tutti come il tuo padre uno in tutti concedi che mangiando il tuo corpo e bevendo il tuo sangue concedi che vivendo l'Eucaristia noi possiamo diventare una cosa sola con te una cosa sola con gli altri e di avere finalmente la pace dentro i nostri cuori Amen Grazie mille Grazie mille Padre ti preghiamo mettiamoci in piedi e ci prendiamo per mano Gesù ti preghiamo Gesù, ti preghiamo, fa che uno sia e che il mondo creda al tuo amore. Gesù, ti preghiamo, fa che uno sia e che il mondo creda al tuo amore. Tu amore, sì, ti preghiamo. La bocca chiusa. Vieni a sanare, oh Signore, le nostre divisioni. Vieni, oh Signore, a sanare la nostra vita. Signore, un giorno i tuoi discepoli ti dissero, queste parole sono troppo dure per noi. E chiunque quest'oggi ha pensato questo, oh Signore, di mezzo a noi non è degno di stare qui. Ma queste parole sono per ognuno di noi, Signore. E dice molti dei suoi discepoli si tirarono indietro perché le parole di Gesù erano troppo dure. Signore, Signore, queste parole sono per ognuno di noi oggi. E noi vogliamo, Signore, che ci mettano in crisi profondamente e cambiano la nostra vita. Perché non ci sarà pace per nessuno se non c'è la giustizia, se non liberiamo la nostra vita dall'invidia. I tuoi discepoli te lo dissero, queste parole sono dure per noi. Forse, oh Signore, non le viviamo in questo momento. Ma quanta invidia nella nostra vita, quanta poca pace, quanto pace che va via dall'oggi al domani. Perché la nostra vita non è fondata sulla Tua parola. Per questo, Padre, nel nome di Gesù, per mezzo dello Spirito, unisci i nostri cuori e libera il nostro uomo interiore dalla divisione. Padre, ti preghià, Padre, ti preghià. Padre, ti preghià, Padre, ti preghià. Perché il mondo creda al Tuo amore, Padre, ti preghià. Gesù, 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 Gesù Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signore, la pace è per tutti, per i vicini e per i lontani. Soltanto gli empi non avranno pace. Essi si muovono e portano sempre su melma e fango per impangare i fratelli, per creare la melma nella società. O Signore, Dio dalla pace, ti chiediamo che la tua pace regni. De bella tutti quelli che vogliono la guerra e metti la pace nei tuoi confini, oh re della pace. Noi siamo i figli della pace, tu hai portato la pace, come detto agli efesini. Egli è venuto perciò ad annunziare la pace a voi che eravate lontani, a voi e a quelli che erano vicini. Per mezzo di lui possiamo presentarci gli uni agli altri all'unico Padre in un solo Spirito. Signore, noi formiamo una cosa sola e vogliamo formare una cosa sola nella fede, nell'amore, nella verità, nella giustizia. Vogliamo essere una cosa sola col Padre, col Figlio e con lo Spirito. Rendici una cosa sola, Signore, e vogliamo vivere così la nostra pace, la tua pace. Amen. Signore, ogni mancanza di pace ha alle spalle una ribellione. Io adesso, Signore, ti preghiamo per tutti i nostri fratelli, per quelli che a causa di malattie, di disordini, di peccati, hanno perduto la pace. Non c'è pace nelle famiglie, non c'è pace nei cuori, non c'è pace nei gruppi ecclesiali, ma gran parte di questa mancanza di pace si manifesta con le malattie. Non c'è una famiglia dove non si soffre, non c'è un gruppo dove non ci sono molti malati, non c'è uomo-donna qui dentro che sia in perfetta salute. Signore, ti chiediamo la buona salute, la buona salute che è frutto della pace. Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore.